Il secondo tempo di una sofferenza da strapparsi il cuore e davvero non trovarlo più Gigi Buffon, 40 anni e non sentirli, ecco la fine della partita, la sintesi Stavi rovinando tutto tu Juventus che avevi dominato l'Atalanta a Bergamo concedendo solo un calcio di rigore Poi nel primo tempo dovevi stare avanti con più di un gol di scarto, assolutamente Sei partito con quel gol subito di un Higuain straripante Nel primo tempo non ce n'era per nessuno intensità con cui si proponeva Abbiamo sbagliato un sacco di gol, una traversa scheggiata, matuidi Troppe occasioni buttate che alla fine purtroppo si sa Se te mi vai a fare il secondo gol ci sta anche di dire oh prendo un gol a Bergamo va bene Però alla fine se vai a vederlo nello sconto diretto 1-0 2-1 Il 2-1 è 100.000 volte meglio Alla fine io me lo immaginavo Tutti mi stavate scrivendo su Instagram dove vi invito a seguirmi nel mio profilo Vabbè oltre che lasciare like per Buffon perché qui non c'è bisogno di essere interisti, milanisti, napoletani o romani Per dire anche oggi quanto è stato decisivo e non solo per il rigore ma per quell'occasione che ha avuto l'Atalanta Complimenti Buffon, grazie, grazie, grazie Ma la Juventus mi deve ancora un altro polmone perché io più vado avanti più li perdo Non so, devo già raccattarli con i cerotti a fine partita perché si soffre, si soffre E me lo immaginavo Dopo un primo tempo dove hai buttato tutto Dopo il gol hai giocato benissimo Cioè stavo quasi per sorprendermi anch'io Infatti mi stavate scrivendo tutti, ripeto Che eravate contenti di questo Io ho detto aspettate ragazzi, aspettate che arriva il secondo tempo Infatti Una roba allucinante Una roba allucinante Una sofferenza L'Atalanta è venuta fuori perché alla fine va anche detto che eravamo contro un avversario che in questo momento sta sorprendendo Va bene che è ottava in campionato ma sta andando benissimo Ha eliminato il Napoli Sta ai sedicesimi d'Europa League Sta giocando bene Sta vincendo Convincento e l'abbiamo battuta a Bergamo dove sta cosa non succedeva comunque dal 2015 Se non sbaglio perché il due anni fa Cioè l'anno scorso nel campionato ci si vede 2 a 2 e ci presero all'ultimo Quindi con l'Atalanta si è sempre andato in vantaggio Infatti quello stavo temendo alla fine del primo tempo Non mi hai fatto il 2 a 0 Bene adesso come ci hanno rimontato un campionato quest'anno Dove alla fine quei due punti per il rigore di Dybala Sbagliato per il gol di Cristanti in terzo tempo aereo Che ancora me lo ricordo Erano i punti che ti facevano essere avanti al Napoli Comunque va bene Va benissimo Non abbiamo ancora preso gol nelle ultime gare E sono 14 volte che non si prende un altro clean sheet Si è preso gol solo col Verona Però qui davvero c'è da ringraziare Buffon Una difesa dove purtroppo abbiamo perso Spero non per troppo perché è un momento fondamentale Siamo nel mese di febbraio Adesso entra tutto nel vivo il bello Perché il campionato Coppa Italia Champions League Perdere Benazia è una cosa troppo Cioè va bene posso capire quadrato Dybala va bene Alla fine due settimane lo ritrovi Proprio per preciso preciso contro il Tottenham a Torino Ma Benazia in questo momento non lo possiamo perdere Anche perché non ti puoi permettere in Champions di giocare Con un disattento Disattento Stasera va detto Perché io critico sempre l'Ikstein E magari sembra che salvo gli altri Ma De Scigli oggi è sbagliato troppo Troppo in preda al nervosismo Bernardeschi quando va nella zona difensiva E non so voi ma fa dei danni assurdi Sembrava che volesse ancora rifare qualcosa di folle Come aveva fatto col Cagliari A Cagliari dove ci poteva essere rigore per il Cagliari L'avevamo già detto a sta cosa Quindi va bene posso capire l'assenza di quadrato Posso capire l'assenza di Dybala Ma se te mi vai adesso a perdere Benazia Dovrei giocare con Barzagli centrale Chiellini centrale Sulla destra magari ci poteva stare benissimo Un Barzagli perché ti dà più sicurezze Ma anche un Licksteiner In questo momento purtroppo De Scigli ha giocato male È dovuto entrare Barzagli Speriamo non sia niente di gara per Benazia Niente Alexandro purtroppo non lo riconosco più È sempre un giocatore che andava su quella fascia Saltava l'uomo Questa volta ritorna sempre indietro Non ce la fa Matuidi per certi punti di vista È un fenomeno per come gioca Ma è uno scarparo È uno scarparo purtroppo Ha levato da Glascosta E ha messo Bernardeschi E purtroppo non abbiamo avuto quasi un'occasione Il secondo tempo Si è fatto davvero poco o nulla E come al solito È sempre a quella Juve Dove tu alla fine devi ragionare Che il primo tempo Se giochi così Non ti puoi permettere di chiuderlo Con solo un gol di scarto Però alla fine è importantissimo Aver vinto in trasferta 1-0 Alla fine sono contento Logico però Se vai a vederle in generale nel primo tempo Tu dovevi essere avanti 2-0 2-0 Ci stava a prendere un gol Adesso Non l'abbiamo preso Va bene Però c'è modo in modo Perché nel secondo tempo Una signora squadra Ce l'ha fatta nel pallone Per due minuti di fila Noi non ce l'abbiamo fatta Certe volte Agli ultimi 20 minuti Proprio 0-0 Da elettrocardiogramma Quindi una sofferenza Che si va a sommare A le altre Va bene Sta di fatto Che abbiamo ritrovato Il numero 1 In porta Il numero 1 Davvero in tutti i sensi E niente Qui mentre qui mi sta Vibrando il telefono 100 volte Perché la gente Da quando ha parlato Quella cosa buffona Ancora non ci crede Perché davvero Era un momento Un momento Dove Sembrava quasi arrivare Per forza di cose Iovo di Atalanta Perché è scritto Che la Juve Quando va a Bergamo Deve pigliarlo Sto gol all'ultimo Niente Bella Forza Juve Fino alla fine Ci vediamo Al ritorno A Torino E lì ci sarà Juve Atalanta Tipo nel giro Di 4 giorni Due volte Domani Milan Lazio Forse farò la reaction E a breve anche la carriera Bella Mamma